Anche le manifestazioni sono state al centro della conferenza stampa del sindaco Seri, infatti entro un mese verrà presentato il programma definitivo degli eventi più importanti del 2015. Ma per non ripetere l'errore commesso lo scorso anno in cui era stata inserita la Fano dei Cesari, poi annullata a causa di un taglio improvviso di risorse da parte della regione, ora verranno inseriti solo gli eventi sicuri, consentendo a tutti gli operatori economici coinvolti di poter promuovere il territorio con materiale adeguato. Metteremo quelli certi, è meglio non prevedere magari un evento e aggiungerlo in un secondo momento. È chiaro che ci devono essere degli eventi caratterizzanti, stiamo pensando anche di migliorare alcuni eventi come la festa del mare, ma su quello avremo tempo per entrare. L'Affano dei Cesari però è a rischio anche nel prossimo anno, spiega Seri, bisognerà attendere le disponibilità di bilancio. L'Affano romana è un elemento che caratterizza la nostra città, quindi è una finestra che noi non possiamo chiudere. Il tema dell'Affano dei Cesari è che non c'è, ricordiamolo dal 2011, è una festa che piace, che piace ai turisti, piace alla gente che viene da fuori, ma richiede risorse importanti, perché quando si fanno eventi di questo tipo bisogna destinare anche le giuste, adeguate risorse. Allora, su quello si farà quando ci saranno le condizioni. Però ecco, ci sarà un programma ricco, importante, con riferime sicuramente ci sarà il Carnival Jazz estivo, però avremo tempo per parlarne. Questo è stato il primo incontro che io e il Vice Sindaco abbiamo avuto con la consulta, è stato un incontro molto positivo, di grande collaborazione, che è ambizioso e guarda a un rilancio e ad una presenza forte della nostra città, che ha tutti gli elementi e tutte le caratteristiche.